Ciao ragazzi, io sono Likuto Baboli in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Epic Battle Simulator in questo video, no, oltre a questo video se ne caricherò con un altro, non so, verso chi ora, sulla Playstation o di Battlefield o di... 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 di Naruto, o di Alciartide, come in giro, non le palle, così faccio penso che mi farò uno, un net match a squadre, per forza, poi quando potrò dividerò, faremo le altre modalità, però dividendole in più parti, perché altrimenti di un quarto d'ora una partita di quella non si riesce a fare, perché io non c'ho oltre le camere che registrano, quindi non posso riprendere oltre di un quarto d'ora, più di un quarto d'ora non posso riprendere, dipende sempre, forse però eh, si vabbè, incominciamo, riprendere, riprendere, riprendere le 24 cose, mettiamo un po' di tutto a cazzo, ma scopri un po' che cosa, oppure di questo fatto fatto l'attenzione non lo so, a più presto devo fare un video di, di, di ringraziamento di quello, per, per bracer, 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 si, dobbiamo fare un video di ringraziamento di quello, non ci si tratta il due, non riesco a respirare, ah, ma sono tutte di, di cose qua, ah, poi uso i cannoni, i cannoni, però con i pistolelli penso che muoiono, non lo so, ne ho messo a casa, non davvero nemmeno che ci stavano messi, pensavo che erano qui tutti, invece ne ho altri aspetti, ci sono gli aggiaturi, ci sono gli hammer, ci sono quelli con lo scuola la spada, se la faranno? la scuola, e la scuola, e la scuola, pensavo che erano più resistenza, non lo so, non lo so, ma è la buio, la, il marto 1, vabbè, l'ha lasciato quella, vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' come si sviluppa, no, vedo 25, ma io ormai sono a 100 livelli, vedi, prima avevano 95, prima è l'aggiornamento che fecero, che hanno aggiunto gli M16 che io scegliamo quelli, 610 livelli, l'ultimo è pure un boss, facciamo una cosa, giusto per camminare un po', mettiamoci le catapulte, dietro, poi, vediamo un poco, ehm, gli M16, non mille niente, ma li avevano messi, perchè sono amica, non sono troppo, per palle, ehm, 16 di un paio, un po' chiaro, ah, sono tutte, è un triangolo, che è un triangolo e, ehm, si prendono le pinte addosso, ehm, dai, affanculo, non la faccio le batterie, ah, boh, perché ce la faccio, però, ho il telefono russo, perché ce la faccio, però, non lo so, fare tre, quattro livelli, e giro, 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 tutto, casca il mondo, oi, gira, gira, zendo, non so se lo disampi, come faccio queste cose, scusatemi, ehm, classica, classica, mettiamo queste, non mi devo sbrigare, vela, che altrimenti mi scarica il cello, e palla, 700, max dai, ci devono andare pesante per forza, altrimenti mi si scaglia il telefono, abbiamo un po' 20 truppe, vediamo poco, quindi ancora così, scompiggiamo subito, mi sa, vediamo, per lo più perché ci sono le cose dietro che difendono, le catapulte dietro che difendono con questo, il tema è giro giro tutto con la levetta, ho visto che vi è piaciuto il video di, come si chiama, come si chiama, dei casi di discord, lo devo caricare un altro, facciamo la seconda parte quando posso, a posto, continuo, vedete, c'è di uno a livello 30, ma non penso, non sta a batteria, e poi ancora 9%, è a posto, questo è, facciamo un po' di gruppe di te, facciamo scontrare, che hanno, allora, ci sono i spadoni e le cose, fino a quando si scarica la batteria, 8%, vedo un po' se riusciamo a arrivare a livello 30, a posto, quelli che ne vanno tutti male, perché sono a suicidare, per chi, riguardo, per chi si suicida, onestamente, sono dinamitati, faccio, mandiamolo un po' a suicidare, ce ne è fritto, è 9,8, si, vi è, ah, li posso stare qui in mezzo, vabbè, e mettiamoci un po' di cannone, questo pera, un po', questo, no, 110, 130, 150, 100, tutto che c'è un cavallo, ma appunto, devono dirmi tardi, esplodono, guarda, guardate, ma gli andranno, si vanno a suicidare, sicuro, ah, ho messo tra hammer e, ah, che è, ah, shiri, come si chiama, non lo so, porca puttana, speratevi, dai, ma speratevi le palle del culo, che cazzo, è parli di cannone su per il culo, no, 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 a nulla, che palle, proprio lì in batteria, guarda sta, ah, proprio il punto, qua il video, no, è il mio tavolo, mi durai meno 24 ore, al massimo 6, ah, ah, poi la facciamo all'ultimo livello, bisogna poi arrivare al 30, ma in realtà la facciamo, comunque poi regge, sì, 20, perché c'è uno di questi, 80, no, no, 80, 80, 4, 5, va bene, dai, ah, pure noi ce li hanno i tuoi, dai, e forza, pure se perde, non fa niente, speriamo di vincere, almeno, mi valgono 30, per forza, dai, ci arrivate vicino, i cavalli sono morti male, dai, occupati di quelli, madre mia, eh, poi ce l'abbiamo perso, un like per questi tre, queste tre pareste, 36%, vabbè, devo chiudere il video, per forza, te lo faccio più lungo, ah, c'è mezza cosa, a fa' cura, dopo il molonio, proviamo, facciamo pesante, dove ci pesante, che cazzo me ne frega, per andare pesante, facciamo la cellula, forza, facciamo pure vedere le batterie, cazzeggio, quando posso, no, non ce li hanno io al cielo, no, è un colpo, vabbè, un like per quello sta a rimanere solo due, vabbè, da no vale mi suicido, che cazzo devo dire, vabbè, ah, c'è il boss, vabbè, no, ci vuole al centro, vabbè, ragazzi, che dire, noi ci vediamo con un altro video dopo di questo, mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete, non ci sarà fedele, iscrivetevi al canale, se volete essere sponsorizzati, ditemelo nei commenti con l'hashtag sponsorizzami, oppure passate a dire semplicemente, oppure, per rimanere a giocare nei prossimi video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani, in un prossimo prossimo video, ciao ragazzi!